La casa, spazio vitale dove trascorrere il tuo tempo. Dottolo Mobili lo sa bene e ti invita a scoprire tutte le nuove collezioni, in anteprima del Salone del Mobile di Milano. Per te, vantaggi incredibili su tantissimi ambienti. Si acquisti il 22-23 febbraio. Dottolo Mobili Open Days. Due giorni di qualità e convenienza aspettano te e la tua casa. Vieni a trovarci. Siamo a Teverola, Caserta, di fronte al centro commerciale MD. Open Days Dottolo Mobili, 22-23 febbraio. Vesti di stile La Tua Casa, aperti intera giornata.